salve a tutti ragazzi oggi come vedete siamo in quattro su una mappa beta che si chiama project vikings che non ha niente a che fare con i vikings e quindi dobbiamo giocare a difficoltà originale o ragazzi nuovo ascoltate voi siete già andati dal lato sbagliato ritornate di qua c'è la parola di salire forse si fa scendiamo di là scendiamo di là allora appena scende l'ultimo inizia il round da qui in questa stanza ok allora ascoltate avete ognuno c'è un afterlife dobbiamo gestirli bene perché dobbiamo tenere uno zombie e iniziare ad accendere le cose ok un'altra cosa che dovete cercare sono le pale che io non so dove stanno ah vedete queste che queste sono molto importanti non si possono utilizzare fin quando uno non muore è attiva con l'afterlife qui col fantasma capito? eh beh si si come ci muovete deve però uno solo deve morire organizziamoci chi è che muore per primo per accendere lì? mi suicido va bene dai uno solo che lo fa così può provare a vedere come l'afterlife ah notate che quando si no lo cura che stai facendo? ti stai autocurando devi andare ad accendere il generatore fatto ma tu sono morto pure io ok devo curare io sponate 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 no no non mi curate a me io sono in stato di fantasma raga ho attivato il generatore qua ho attivato il generatore qua ho attivato il generatore qua oh dio le orci le orci straffi no ebito guarda 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 no ebito cosa è successo? cosa avete fatti? non me ne sono a cuore ma che sono usciti i vichinghi sono usciti? no 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 non potrebbe essere normale perchè sto registrando ah comunque vedete si così qua si sono dei corruttori andate qua e li abbassate fatto eh se li accendi tutti ahahah ragazzi ragazzi dovrà aprire e cominciare a riaprendi vedete se è trappola se è trappola ogni tanto si riaccendo state appendi quando passà cosa vuol dire? vai ti prendi quella del m14 cciolta in testa m14 cciolta in testa ehm quello dei massimi esatto ma si può scavalcare si può scavalcare qua questo è quello per campionare ah aspetta perchè qua sta sta così cosa sta dietro la macchina vuole power power ehi no è vero infatti io non mi chiedo perché andava letto che cosa franco passa qua fammi vedere eh si si serve la pala infatti ah raga salite sopra qui sta la cassa soprattutto la torre qui sta la cassa c'ho la torre abbiamo guarda di di backup 2 dove 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 raga qua sta l'f2000 che arma io non la conosco raga raga la c'è il tel shot da kiri quindi ci sarà poche generatori da attivare attivatelo se vogliamo fare l'anima uno si deve sacrificare e accendere qui ehi ok ho fatto io ho fatto io accendi qui qui vedi dove sono io vedi qua c'è ancora la cassa accendi la cassa ho fatto 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 hai acceso il qua vicino vedi qualcosa sta vedi 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 avete notato che gli zombie avete notato che gli zombie muoiono in maniera diversa dal solito ragazzi ho attivato il generatore ho attivato il generatore ho attivato il generatore vedi che arma è l'SC 2010 vedi STG pochi vedi vedi è come se fossero accoltellati guardate no vabbè toccato no sono morto no pure io oh il mortaio fai il doppio il doppio pure io io sto in un'altra volta avete preso tutte le zunche tutte le zunche tutte le zunche apre ma dove li do? è il zunche cosa aspetta? cos'è quel bonus? eh speri i zombie lucidi rancro ma io dubito ci stai dove sta Rappi? Non lo so, ho attivato il generatore. Dove manare giù allora? Scendiamo. Scendiamo. Ragazzi sono dei mortai, sono dei mortai. Sono dei mortai. Sto vicino al generatore. Aspetta, io vado ad aiutare. Ma dove state? Io sono morto, io sono morto. Ho trovato il fallo, ma fatemi vedere. Per cazzo. Ah, vedi, li vedi? I vittemplari. Sto qua, vedi, qua giù mi vedi. Ora risalgo, si può risalire. Risalgo, sto qua. Sto qui. Sulla torre, sulla torre. No, il boss. Il boss. Eccolo, sta qui. Sta qui, lo vedo, lo vedo. Ok, l'arato, l'arato, dai, l'arato. Ma comunque non è lui, il boss, eh? Non è lui, è un'altra chi. Vedi? Lo zombie col coltello. Non è stato. Come sei quell'arma? Sto morendo, sto morendo. No, ragazzi, mi ha dato la bibita. C'è un'altra bibita. Ma guarda, è morto. A me non me l'ha dato. Non mi ha dato. Non mi ha dato. Non mi ha dato. Ratti, dove sei? Non lo so. No, per far quelli, di fronte sto. Ho le canate strane. Sta la bomba, sta la bomba, sta la bomba. Ho le canate strane, ho le canate strane. Oh, ma come cazzo si torna indietro? Ma dove sta? Dove sta? Lo faccio, lo faccio. Guarda, scendi. Sto guardando l'altra action. Ma l'altra action non è... Mamma, le cani guardano i topi. Dove stanno altre porte da aprire. Allora, sta qui. Vai alla cassa, vai alla cassa. Qui sta il forzo, eh. Non c'è la cassa. Aiuto, aiuto, aiuto. Scendete nel buco. Scendete nel buco qui. Oh, è Frank. Oh, dove sta? Frank, dove state? Io sto nel buco qui, raga. Fab, allora, Frank, dove state? Io sto qua nel buco. Vedi questo buco che sta qui. Ah, state là. E ora proprio si arriva di nuovo. Vieni, vieni, sta là aperto. Adesso la porta. Dove? Devi andare a vedere che sta la porta e poi sta un buco in un terreno. Entra là. Sta una galleria lunga. Ok, ok. Oh, qua c'è un altro interruttore. L'ho attivato. Entra. Mori per qualcosa di spaventoso. Attenzione adesso. L'ascensore. Bisogna comprare l'ascensore. Ok. No, no, attenzione. No, 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 mi devo curare. Dio, dio, dio. Sto a te, trasporta nel campo. Tentra, spaventare. Non posso scendere, giù. Non sono fantasma. Può trovare il buco dove sta. Sto scendendo. Oh, ragazzi. Lasciate lo gioco. Dove state? Io dentro il gioco. Eh, ragazzi, scendi. Vieni, scendi. Vieni, scendi. Sbala, sbala. Vieni, armi. Sto scendendo. Scendi. Scendi nel buco. Veloce, veloce. Veloce. Cango di zombie. Ho tutto. Vieni, spara. Eccomi, eccomi, eccomi. Dov'è il mio corpo? Qua. Ok, vai, vai. Siamo tutti qua. Rapid, dietro. Non ti sento. Sono vivo, sono vivo. Ah, ok. Rapid, no, non ti ne andare, raga. Diamo una censura. Ti approfitto per il cittadino. Oh, oh. Mi avete auto... Mi avete reanimato, sì. Oh, la censura. Ma no! No, va bene, mi hai navigato sta mappa. Ma no! Sono caduto sotto. No, sono caduto, sono morto. No, non andate là, lei. Ma no, sono morto fuori io. Oddio. Non l'avevo visto. Non cadere. Non mi sei morto, sei seguito solo tu. Sei lì, non sono con me. No! Non so cadere niente, non vedo un cazzo. Aspè, no, sei fantasma adesso. Tu sei fantasma adesso. Fai teletrasportare tutti gli zombie che stanno vicino a te. No, non avevamo visto il buco. Sta un buco di là. Non ho visto niente. No, li teletrasporta all'infinito. Appena li teletrasporti non vanno, curati. Devi fare, scappa. No, no, no. Va, ok, ok. Guarda, io ruvo attorno una corsa. Che cos'è? Eh, sì, ti proteggono, tipo... Non so se è quello giusto, è quello giusto a questo. Mi sembra di sì, si è da qua. Oh, Fabio ha bloccato la strada. Fabio, forco! Fabio! Fabio! Fabio, per favore, potremmo andare qui, guarda. Aspetta, passa da qua, da qua. Così, ecco appunto. Come hai fatto? Eh, devi saltare. Ah, oh! Andiamo. Ragazzi, abbiamo il generatore, guarda, Franco, guarda. Ah, non inizia se quello non scende, lo sapete? Eh, bello. Eh. E mo? Eh, vabbè. Ecco. Vabbè, dai. Eh, beh! Ah, mo parte, vabbè. Original. Avete acceso il generatore o lo scendiamo ora? No, spera, 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 non lo accendo. 800 costa, tra l'altro. Eh, una domanda. Voi avete iniziato con la Mouser? O con la pistolina, quella di due pochi sui? Io non ho colto, che merda. Eh, quindi è casuale. Può uscire uno o l'altro. A me ci deve andare a Mouser. Eh. Ma perché fai il dolfin da i brando? Vabbè. Eh, attiviamo il generatore? Vai, vai, attiviamo, attiviamo. No, lo attiva. No, lo attiva. Raga, avete capito che a round 10 viene uno zombie boss che è diverso dagli altri? È una cosa che, da quello che sentite, è una specie di mostro grosso. C'è un metodo per andare in afterlife senza farsi uccidere per forza. Guarda, aspetta, ma mi dici altri. Svitch. Guarda. Premi alt per unmacht power up. Sto per sbloccarli, aspettate. No! Vabbè, accendo io, sono in afterlife, accendo le robe. Fatemi realizzare. No, no, non mi animare, sto... No! Rialemmi adesso, se in casa mi fai caduto in un punto fuori dalla mappa. No, stai... Sono morto. Mi potete curare oppure no? No, no. Sono morto a proprio. Il fantasma è morto, sono morto pure io. Ma no! Dal vuoto! Sono sceso dal vuoto. Oh, un'è qua sotto? No, là sta una finestra. Ragazzi, apriamo qua. Dove, dove, dove? Qua, qua. Ragazzi, ehm... Sceneratura, abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto. Apriamolo alla cassa, di qua, sulla, vieni. Eh, andiamo alla cassa. La casa sta sopra, la casa sta al piano di sopra. Mo' c'ho la M1901. Dai, ma ci so... Ma ci so, a raffola. Ok, c'ho l'FMJ doppio, eh. No! No! Con un colpo! Ah, vabbè, mo' mi ria... Mi riaanimo, mi riaanimo, mi riaanimo. Mi riaanimo. Mi riaanimo. C'era una cosa da accendere qui. Ragazzi, fai con le kershio, fai con le kershio. Oh, ma c'è pure la tante. Va, 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 mi sa più, va, ma c'è un pazzesco. Che armai, che armai? Non lo so, non lo so, prendila, prendila e basta. Oh, oh! Dove siete? Appena di sopra, arrivo. Ragazzi, si vede che io le ho che... Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. Guarda, vediamo. Quella è già in più. Sì, io le che è. E non fa niente. E vota. Ok. Ma druu! Buono. Però adesso non serve a niente. Che serve? Perché mi ha dato dei punti a caso? Ragazzi, dobbiamo accendere il Juggerna. E qua, qua, qua. Oddio. Ma il fumo. Oddio, di, 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 di. No, però quegli zombie ti bloccano a meno. Non so perché, ma... No, quegli zombie sono più forti. Mi sembra. E' passato un po' di un colpo. Di meno. Ragazzi, io il generatore, io il generatore. Ma chi? Ma voi le vedete le doppie armi? A me? C'ho due armi in mano. Oddio. Ok, il generatore. Ammo, fermi, fermi, ammo, fermi. Ammo, spero, spero, spero. Ma tu che armi hai trovato? Hai trovato il... Ehm... Quello di Origins hai trovato. Sì. Ma lo fammi vedere. Allora, prendete l'ammo, mi metto. No, l'ho visto. Lo sopportiamo. Macchina mortale! Pure una macchina mortale! Spacketting! Salve, un zombie! Dove andate a prendere! Macchina mortale! Spacketting! Ma questo è il suo rumore! Ragazzi, è il V2R! Come si fa ad accendere il... Ah, il Junker, no, che l'avete acceso? Quando l'avete acceso? Eh, Franco, quando si fa la cosa, la... La, il generatore. Ah, buono. Buono, ok. Ormò ho imbarato un altro accendere. Eh, raga, e non siamo andati per niente dove sta il pack a panci dietro alla mappa. Scendete di qua, di qua dovete scendere. Scendete qui giù, dove sono io? Uuuuh! Sto state, to state! Uuuuh, si muorete! Raga, scendete giù, io sono finito dentro una specie di fossa. Eh, l'acca voglio. Ah, ho capito, ho capito cos'è. Dove, dove? Ah, vai alla torre, vai alla torre quella dove sta la cassa, scendi giù, mi vedi, mi vedi che... Oh, come se la cassa è salvo a giù? Un r PAC a ID. Sardi salvo a GAP. Ah, sta la cassa, scendete giù? Ha, scorso a GAP. Vesten za המע. Ma non si muove le auto, ma perché è culo a me? Andiamo, andiamo, andiamo. Dov'è? 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 Raga, mi vedete qua? Andate sulla torre. Aspetta! Madonna. Oddio! Quelle che esse, il cavolo. Raffi, non devi andare. Dimmi dove bisogna andare. Ma cazzo, affaggiamo. Che cosa? Cosa? Mi ha teletrasportato pure a me? Mi ha teletrasportato. Pure a me? Che cosa hai fatto? Ah, no, eccomi, eccomi. No, no, no. Che cosa hai fatto per teletrasportarmi? Porca piazza. Legerci, legerci. Franco, legerci. E pure a me? Ah, questa è la bel che cola, 1500. Ma la faccio, vediamo che bibita mi dà. Franco, perché stai là? Come ci si arriva là? Cosa? Guarda, guarda, no, raffi, sali sotto, sali sotto. Oh! Oh! Ma no, di fronte! Di fronte! Vai, vai. C'ho Brutus! Quel brutale! No, c'ho, bravi. L'ho eliminato, l'ho eliminato. Ma che riganna sto bloccando, vabbè. Come ci fate a passare? Che non c'è stava. Raga, sto in una zona della mappa, che manco io sono per cazzo sotto. Ok. 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 Eh, ti allungo in trasporto. Oh, vai, vai, vai. Questa, 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 questa. Non ce capisce, no? Franco, cerca di venire dove sta. Ma quanti pochi colpi ha, Simon? Porco povero! Raga, eccomi, eccomi, eccomi. Un labirinto è la piede. No, l'arma che qua si muoce, non sa. Non sa che mi da dire. Devo fare la cassa. Non c'è la cassa. Dov'è la cassa? No, la cassa è là, Franco. Qual è l'arma buona più vicina? È sotto, è sotto, è sotto. Franco, vai, vai, ti corro io, vai. Dov'è l'NP40? Ah, sta sotto qua la cassa, sì. Eh, sta là. Oh, rapido, che cazzo è? Aiuto, aiuto. Sì, ho trovato l'orologio del tempo! Quello di... Quello di Baried! Credo, ma la posso prendere pure io? No, perché... Ho trovato l'orologio! L'orologio, what? Quello di Baried! Ah, non mi ci vado stavolta, troppo bello. No, raga, siamo tutti sopra, Franco, stai... Raga, come c... Franco, stai... Sì, devo fare una cassa, sennò come cavolo fa? Questa mappa è epica, proprio. Ah, non passi da regola. Lo so. Ammetterò... Ehi, devo fare la cassa, non mi riuscite a coprire? Eh, no, no, c'è una bomba. Ma per te mi abbondi spav, oddio, no, sono quella mappa, un figlio, sono sconendo, non so perché. Aiuto! Devo fare una cassa, mi la fate fare? No, no, non ho colpi, copritemi, sto alla cassa. Raga, vogliono andare a vedere questa giacca. Così, il container l'avete spostato? Perché avete spostato il container? Eh, infatti, Raffi, vieni, Raffi, vieni, Raffi, dove stai, Franco? Sto qua, sto vicino, non mi preoccupare. Ok, lo spostato. Vabbè, ma, con questa ragazza, vieni, voi. Eccomi, raga. Dai, vieni, raga, tutti insieme, oh. Come accovarciati i premi alt per usare il mortal round? Eh, sì, 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 vabbè, sì, sì. Lo faccio. No, 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 facciamolo dopo che ci serve, lo ti dà soltanto un colpo di mortaio che vuoi lanciare. È buono, è buono a usare. Sento che sta... No, no, c'è qualcuno! C'è la palma, raga, venite qua, venite qua, venite qua. Sto morendo, sto crescendo, sto screaming. No, sono morto, sono finito fuori dalla mappa. Come, non cazzo. Che cazzo succede? Sono fuori dalla mappa. Ragazzi, c'è il big daddy. C'è il big daddy. Raffi, ma tu non riesci a scendere da là? Oh, sì. E io sono morto Sono finito fuori dalla mappa In un punto bastardo E quello sarebbe il boss No non era quello il boss Che avevo visto io Ma l'avete eliminato Ma no Prendila No Cosa Non ci credo E finisce così In questo video Su questa mappa assurda